Lavori in corso nel Vecchio e nel Nuovo Sant'Anna. A partire da domani nel poliambulatorio di Via Napoleona saranno eseguiti gli interventi di asfaltatura delle vie interne all'area. Stamattina l'ufficio tecnico della SST Lariana, la vigilanza aziendale e la ditta incaricata hanno fatto un sopralluogo per rivedere temporaneamente i percorsi per gli utenti. Per chi entra a piedi non ci saranno cambiamenti e l'entrata resta quella di Via Napoleona. I mezzi che trasportano i pazienti, le vetture private e dei dipendenti devono cedere da Via Colonna e uscire da Via San Carpoforo, seguendo la segnaletica predisposta. A partire da domani mattina sarà potenziato l'organico della vigilanza per poter gestire al meglio il traffico interno. L'intervento di riqualificazione stradale dell'ex Sant'Anna riguarderà una superficie di 10.000 m2 per un investimento a carico dell'azienda di circa 60.000 euro. Prosegue anche il cantiere per il rifacimento della facciata del monoblocco. È stato eliminato il rivestimento ed è iniziata l'intonacatura. Il termine dei lavori per i quali l'azienda ha stanziato 100.000 euro è previsto per la fine di ottobre. Lavoro in corso anche all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia. Oggi l'unità operativa di nefrologia è stata trasferita dalla degenza medica 3 in degenza medica 2. L'unità operativa di medicina generale ha concentrato le attività in degenza medica 3. Da oggi la degenza medica 2 ospita l'oncologia, la nefrologia e la pneumologia per un totale di 14 posti letto, più uno da utilizzare a seconda delle esigenze. Nella degenza medica 3 invece trova spazio la medicina generale con 24 posti letto e la cardiologia con 26.